An Agrigento partecipazione e commozione in occasione dei funerali della giornalista e insegnante Loredana Guida, 44 anni, vittima della malaria, non diagnosticata e curata in tempo. Tanti i presenti tra i familiari, gli amici, i colleghi, le autorità militari, il colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento. Nel corso dell'Omelia, Don Carmelo Petrone, tra l'altro, ha affermato «Il nostro cuore è appesantito da tante domande che non trovano alcuna risposta, che disorientano, che intristiscono. Ci sono tanti sentimenti nel mio cuore, l'incredulità di fronte a quanto accaduto, ma anche l'inadeguatezza a pronunciare parole che possano scendere nel cuore e lenire, almeno un poco, la sofferenza. Una morte così lascia increduli, storditi, pieni di dolore. Innanzi alla Chiesa sono stati raccolti fondi a sostegno del progetto perseguito da Loredana, ovvero la costruzione di una scuola in Nigeria». L'정이 cazata cuore è un' nonsense in Nigeria. L' piggybackerlio è a dei posti Usia e dei posti Ni steg JK In Nigeria Eterno riposo. Eterno riposo.